Home Cinema. Porta l'emozione di un vero cinema a casa tua. Immagina il tuo Home Cinema. Le luci si abbassano gradualmente, le tapparelle si chiudono, un grande schermo si accende e via, sei subito pronto a vivere l'emozione cinematografica nel confort del tuo ambiente domestico. Quando vuoi, con amici, con i tuoi figli o quando decidi di dedicarti del tempo per guardare la tua squadra del cuore. Probabilmente te ne sarai già accorto, il classico TV, anche in 4K, installato nel soggiorno della tua casa non è in grado di trasmetterti quell'immersione, quell'emozione e quel coinvolgimento che provi quando vai al cinema. Ci sono svariate ragioni tecniche alla base di questo mancato effetto, ma ciò che a te interessa è che non è così. Nonostante il nuovo schermo da 65 pollici e le casse di ultima generazione, Grazie a tutti.